Partiamo insieme agli sposi, adesso! Vorresti avere il matrimonio più divertente del secolo? Sei solo a 15 secondi di distanza dallo scoprire come coinvolgere ospiti da 0 a 100 anni senza rischiare che si annoino ed avere un matrimonio che sarà preso come esempio da tutti i tuoi amici Clicca subito qui sopra e scarica il video esclusivo gratuito che ho preparato per te Ciao e ti aspetto dall'altra parte!